Lo zaffiro è una pietra preziosa affascinante e amata nella gioielleria, con una storia ricca di significato e simbolismo. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le caratteristiche uniche dello zaffiro in gioielleria, i suoi molteplici utilizzi e il profondo simbolismo associato ad esso, nonché il suo potere nella cristalloterapia. Lo zaffiro è una varietà di corindone, una gemma composta principalmente da ossido di alluminio. Ciò che rende lo zaffiro così speciale sono i suoi bellissimi colori, che spaziano dal blu intenso al rosa, dal giallo al verde, e persino il raro zaffiro padparazca, che è una combinazione di rosa e arancione. Lo zaffiro è noto anche per la sua durezza, essendo la seconda sostanza naturale più dura dopo il diamante. Questa resistenza lo rende un'opzione ideale per gioielli di tutti i giorni, come anelli, orecchini, braccialetti e collane. Lo zaffiro è da lungo tempo una scelta popolare per la creazione di gioielli pregiati. I gioiellieri apprezzano la bellezza e la versatilità dello zaffiro, che può essere tagliato in diverse forme, tra cui taglio a brillante, taglio princess, taglio ovale e molti altri. Lo zaffiro blu è particolarmente amato ed è spesso utilizzato per creare anelli di fidanzamento e fedi nuziali, simboleggiando fedeltà, amore e saggezza. I gioielli con zaffiri colorati, come rosa, giallo o verde, offrono invece un aspetto audace e unico. Lo zaffiro è ricco di significato simbolico in diverse culture. Spesso associato alla serenità e alla pace interiore, lo zaffiro rappresenta anche la saggezza e la protezione. In molte tradizioni, lo zaffiro è considerato una pietra di fiducia, fedeltà e sincerità. Si crede che indossare uno zaffiro possa promuovere la chiarezza mentale, favorire la comunicazione e aprire la mente all'intuizione e alla comprensione. Nella cristalloterapia, lo zaffiro è considerato un potente cristallo di guarigione. Si ritiene che possieda energie calmanti e lenitive, che possono alleviare lo stress, l'ansia e favorire una mente calma e concentrata. Lo zaffiro è anche associato alla stimolazione dell'intuizione e della consapevolezza spirituale. Si crede che questo cristallo favorisca l'equilibrio energetico, stimoli la comunicazione e promuova la guarigione emotiva. In conclusione, lo zaffiro è una pietra preziosa affascinante e versatile, apprezzata per la sua bellezza e la sua durezza. Utilizzato da secoli nella creazione di gioielli di pregio, lo zaffiro simboleggia fedeltà, saggezza e serenità. Nella cristalloterapia, lo zaffiro è considerato un potente strumento di guarigione, con la capacità di lenire la mente e l'anima. Che tu sia affascinato dalla sua bellezza o interessato al suo potere curativo, lo zaffiro è una gemma che merita di essere esplorata e apprezzata per la sua straordinaria presenza nel mondo dei gioielli e della cristalloterapia.